Manca solo l'ok dell'Agenzia per la coesione territoriale per sbloccare i fondi e dunque le gare per i lavori di rifacimento delle strade provinciali 99 Ascoli Candela Rocchetta, 101 Bivio Candela Sant'Agata Accadia e 109 di Lucera. E quanto si apprende dal settore mobilità e viabilità di Palazzo Dogana? In tutto 3 milioni e 500 mila euro rivenienti dalla devoluzione di economie. In quella somma sono compresi anche 300 mila euro di mutui cassa depositi e già nel precedente piano triennale di lavori pubblici tra sp99 e 99 bis erano previsti investimenti nel settore manutenzione stradale per 200 mila euro da mutui residui. Sui progetti ci sono già i necessari pareri favorevoli compreso quello della regione. Chiaramente dopo l'ultimo via libera bisognerà espletare le procedure di appalto. La provincia sta provando ad accelerare. Il consiglio con tutta probabilità allargato all'assemblea dei sindaci si riunirà per fare pressing. In questo momento abbiamo la necessità di chiedere a chi di dovere di darci le risorse per poter fare queste manutenzioni. Al momento le abbiamo fatte. Sono assolutamente insufficienti per carità di Dio e quindi credo che ci voglia un'azione politica molto forte che il territorio deve all'unisono promuovere. I rocchettani non si accontentano delle bricele. Hanno scritto al governatore Michele Emiliano chiedendo udienza. Ora la provincia per avvisarla nell'imminenza del consiglio monotematico. 700.000 euro non risolveranno i problemi. Serviranno solo a procrastinarli perché a tanto ammonterebbero le somme destinate alla sola strada provinciale 99. E oggi Francesco Miglio ammette sconsolato che le strade da rifare sono tante. Non c'è solo quella. Sono stati proprio i cittadini condannati a percorrere una mulattiera, unica via d'accesso al paese, a promuovere la petizione online e cartacea che ha raggiunto finora 1.600 firme per la messa in sicurezza della SP99 e della strada statale 655, la superstrada nella corsia da Candela a Foggia. Ormai è una questione di sopravvivenza. Gli abitanti di Rocchetta, altrimenti condannati all'isolamento, non sono più disposti ad aspettare. Arrivano fino a chiedere le dimissioni del presidente Miglio in mancanza di interventi risolutivi e tempestivi. La segnaletica è inesistente, la strada è franata in più punti, trascinandosi dietro pure il guardrail. Il limite di velocità è prima a 30 e poi a 20 km orari nel tratto verso l'acedonia e anche peggio. I promotori della petizione chiedono di dirottare lì i fondi per il dissesto idrogeologico, almeno altri 2 milioni di euro, e programmare la manutenzione ordinaria.